Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, oggi esploreremo alcune novità uscite prima e dopo l'ADAX SimRising Expo 2024, uno degli eventi come sappiamo ragazzi più attesi per gli appassionati di SimRising e quest'anno come al solito ci sono state delle rivelazioni molto interessante sia dalla parte software come abbiamo visto con ad esempio il setto Corsa Evo e tantissime novità lato hardware e periferiche da scoprire. Ragazzi iniziamo subito con il volante Ford Mustang GT3 sviluppato da WPG in collaborazione con BF1 Systems, questo volante non è solo una replica ragazzi è esattamente lo stesso modello utilizzato nell'auto da corsa reale con alcune leggere modifiche ovviamente per adattarlo ai rig domestici, è interamente realizzato in fibra di carbonio con un peso di soli 1,150 kg offrendo un'esperienza incredibilmente realistica e leggera, il volante è compatibile con Simab ed include luci RGB e una serie di pulsanti e rotari progettati per i SimRiser più esigenti come voi. Finalmente troviamo Fanatec con il suo attesissimo volante Bentley GT3, parte della sua prestigiosissima linea podium, questo volante replica fedelmente quello che utilizzato nella Bentley Continental GT3 Pikes Peak con materiali di altissima qualità come la fibra di carbonio intrecciata e l'Alcantara che Fanatec utilizza già nei suoi volanti ed è Alcantara italiana ragazzi. Dispone di un display touch da 3,4 pollici per mostrare telemetria e dati di performance oltre a un paddle magnetici per un cambio di marcia preciso e reattivo. Compatibile con PC, Playstation e Xbox, il volante è già disponibile al prezzo, al modico prezzo di 1999,95 euro, 2000 euro ragazzi, le consegne sono già partite quindi non lasciatevelo scappare e oltretutto vi danno anche una base per poterla appoggiare che vi indica l'ora. Passiamo ora a Thrustmaster ragazzi che non finisce di stupirci perché presenta un nuovo volante Hypercar Wheel Add-on compatibile con le basi Direct Drive T818 e la nuovissima T598. Questo volante combina materiali come l'Alcantara e la pelle perforata offrendo un'esperienza di guida ispirata alle Hypercar di lusso. È dotato questo volante di 25 pulsanti, led per la visualizzazione delle informazioni di gara, paddle magnetiche e trigger analogici. Questa donna è perfetta ovviamente per chi cerca realismo e precisione. Sarà disponibile dal 29 di novembre in concomitanza con l'uscita del T598 al prezzo di 349,99 euro. I preordini sono già aperti quindi chi di voi è pronto a provarlo? Passiamo a Moza Racing ragazzi che lancia il volante Lamborghini Essenza SCV12, una replica di lusso per gli appassionati del marchio. Realizzato con materiali premium come pelle scamosciata e fibre di carbonio ed è fedele al design dell'auto originale. Ma proprio perché è fedele al design originale presenta già alcune limitazioni. Infatti a differenza dei suoi concorrenti il volante non utilizza paddle magnetici, preferendo infatti un sistema a levetta per rimanere proprio fedele alla configurazione Lamborghini. Inoltre mancano altre funzionalità standard, dual clutch, funky stick a 7 vie, caratteristiche che ormai sono comuni ragazzi, soprattutto a questo livello. Oltre tutto ci sono anche ancora dei problemini con il software Pit House di Moza, però diciamo che Moza promette di fare aggiornamenti per risolvere il problema. Il prezzo? Beh, 1399 euro ragazzi. Pronti a provare anche questo? Bruscolini, 2000 euro, 1400, va bene. Passiamo a Trey Crazy ragazzi, questa è una bombazza veramente di news che mi ha veramente stupito, perché ha presentato una replica uno ad uno del volante Alpine Formula 1, introducendo una gamma di nuovi accessori hardware. Infatti, oltre al volante, l'azienda ha portato all'Expo i suoi TR3 Pedals, un set di pedali progettato per garantire massima precisione e sensibilità. Hanno anche mostrato un freno a mano e un cambio sequenziale, entrambi di altissima qualità. Inoltre, Trey Crazy sta lavorando per renderli compatibili anche alle console, espandendo quindi l'accessibilità anche ai giocatori non PC. Sono furbi, Trey Crazy. Apriamo il mercato, così più dindine più possiamo sviluppare. Inoltre, grandissima novità. Hanno presentato tre nuovi basi da Red Dry con capacità di coppia variabili tra 12, 18 e 30 Nm. Questi dispositivi sono datati di strisce LED per il feedback visivo, come i giri motore, ad esempio, e rappresentano l'entrata di Trey Crazy in un nuovo segmento di mercato. Il CEO Max10 ha dichiarato che i freni a mano e i cambi sequenziali saranno disponibili nel primo trimestre 2025, qua, tra poco, con le basi da Red Dry invece a seguire nel secondo trimestre. L'azienda punta quindi a diventare una soluzione one stop show, cioè io entro nel tuo sito, mi fermo e compro tutto e mi faccio tutto l'ecosistema Trey Crazy per fare simulazione. E capirai ragazzi, perché offrono soluzioni complete che includono anche monitor ultra wide del rig di nuova generazione come il TR40S, disponibili a meno di 300€ ragazzi. Se questo non è entry level, voglio dire. Ma poi ragazzi, una notizia da far girare la testa, a parte il fatto che tutti stanno facendo basi da Red Dry, ma pure Simlab si è messo con un modello di punta capace di erogare ben 35 Nm di coppia e altre due versioni da 15 e 25. Questi dispositivi sono progettati per offrire un feedback ultra realistico e una connessione istantanea che garantisce un'esperienza di guida incredibilmente immersiva, da quello che Simlab dichiara. In particolare, sottolinea che il modello da 35 Nm è particolarmente impressionante per la sua capacità di mantenere una coppia massima per diversi secondi, offrendo più una performance sostenuta, come dico loro, piuttosto che picchi di potenza. Questo è molto interessante ragazzi. Simlab infine dichiara che queste basi sono ancora dei prototipi, che hanno firmware e software in fase di sviluppo, ma che hanno già pianificato di rendere compatibili i loro dispositivi con volanti di altre marche, grazie a un pass-through dati. I prezzi varieranno tra 1000 e 2500€, che siamo più o meno nel mercato attuale di basi di questa potenza, ovviamente a seconda delle specifiche e delle prestazioni. Il design finale sarà rivelato l'anno prossimo e l'azienda promette un look più rifinito e innovativo rispetto ai prototipi attuali che hanno fatto vedere. In conclusione ragazzi, l'Adex Sim Racing Expo 2024 ha dimostrato come il nostro settore, il Sim Racing continua ancora a crescere ed evolversi, innovazioni entusiasmanti come queste e non sono finite. E hardware che ovviamente è sempre più realistico e performante, oltre al software AC EVO, ragazzi, rinnovamento di grafiche eccetera. Quindi ragazzi, tantissime novità. Quindi fatemi sapere quale di questo hardware vi è piaciuto di più, quale vi è entusiasma, quale vi piacerebbe testare, a sti prezzi ragazzi, ovviamente. E niente, lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate, se questo video vi è piaciuto come al solito pollice in su e iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!